Tante cose, hai proiettato, però per finire, leva hai fatto, avevo riuscito a imparare un movimento, però questa cosa, per questa seconda serviva questo sottocamento, e basta. Capisci? Vai, sei laterale, quello che deve controllare l'avversario è che lui non scappa con gomiti, se adesso piangiamo, rilassati, sentimi bene, gomito, andai, vai, copri testa, hop, bene. Anche se io ti giro così, vai, vai, verso, verso, bene, vedi? Anche controlla mia gamba, controlla gamba, no, no, prendi, prendi, prendi gamba, vedi? Lui pensa che lui adesso possa liberarsi, questa gamba scappa, giù, con culo, con culo, si, vedi? Con culo si, con glutea a terra, si? E vai, con piang, con trattori, vai, 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 vai in centro, vedi, io adesso voglio, vedi, se lo un po' di spasso, non permette, se lo un po' di spasso, si, pian piano, vai, 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 adesso è tempo che speciare, hop, si, si, sete, 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 troppo, 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 sono due stris, vedi? Deve attaccarti molto meglio, si, e adesso fai, unisci braccia, si, e adesso quello che devi avvicinarti a terra, vai, 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 aspetta, non che ti giri la, schiaccio qui, oh, e vai un po' indietro, ah, ok, ok, aspetta, da qua, schiacci un po', wow, si, vieni buio, no? Si, è vero, ti ho detto? Manca aria proprio, si, vedi, hai usato tanta forza? Zero, hai capito? Si, tu potevi vincere, ma ti mancava solo questo, tutto era a posto, lui era giù, feri sopra, un movimento, bene? Si, con calma, con calma, adesso devi sentire, guarda, sei qui, controlla, controlla gamba, io ti schiaccio qui, non ti interessa, testa, rimani qui, no, 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 aspetta, Anche così, vai pian piano, attacchi, culo giù, culo giù, oh, e vai, 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 lascia, 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 lui non deve sentire cosa tu fai, vai, 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 spinge, 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 adesso senti che lui non ha... Spinge, 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 spinge capisci con tua forza questa cosa adesso con questo movimento tu puoi vincere tutti i gari fino a mondiale che rimango così quando vai giù basta fare questo leva di gomito e questa cosa però da qui tu puoi fare tante cose puoi fare anaconda ciocchi vuoi capisci come unisci basta che giri un po laterale avversario e tu soffochi in questo modo se lui si gira un pochino di là tu cambia presa e lui si foca dietro con un po dietro si lui fa 30 cm in questa direzione cambia radius del suo corpo e entra subito su e poi anche guarda vai giù obiettivo io sono qui non mi sento abbastanza tu puoi provare a uscire fare gambero io ti controllo posso controllare anche short si permette se vado 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 piano piano vedi e se io giro così se lo rendi conto si però in realtà io comincio da qui vedi posso fare anche un'altra cosa vedi piano 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 vedi quante cose posso attaccare anche qui vedi per non permetterti tanta necessità di movimento qua funziona ok chiaramente ok ok